È bello sapere che qualcosa migliora. Prima non c'era via d'uscita, adesso c'è. In questo modo, le innovazioni sono alla portata di tutti. Un'opportunità in più per il futuro. Il Ministero della Salute ha istituito un fondo speciale da un miliardo di euro per mettere a disposizione dei cittadini farmaci innovativi. Oggi dall'epatite C si può guarire definitivamente. Il futuro è già presente. Grazie a tutti.